A Caltanissetta un richiedente asilo di nazionalità nigeriana è stato arrestato dai poliziotti della volante. L'uomo, 47enne pregiudicato, in atto sottoposto ai domiciliari, è stato sorpreso dagli agenti in via San Domenico. Fermato, è stato perquisito e nella tasca destra del giubbotto è stata trovata una stecchetta di hashish. E stesa la perquisizione anche nell'abitazione dell'uomo, i poliziotti hanno trovato altre sette stecche della stessa sostanza, oltre a tutto il materiale per il confezionamento delle dosi. Il 47enne è stato condotto in questura e dopo aver espletato le formalità di rito, il PM di turno ne ha disposto nuovamente i domiciliari.